Le politiche ambientali sono state considerate marginali rispetto alle politiche della crescita, marginali rispetto alle politiche alla gestione del buon governo. E' bello che non abbiamo neanche avuto la crescita, vero? No, ma ci sono alcuni dati che sono assolutamente chiari. Nel 2010 la legge finanziaria stanzia un miliardo di euro per la protezione del territorio, sostanzialmente per prevenire il dissesto idrogeologico. Dopo qualche mese questi fondi vengono tolti per essere destinati prevalentemente a coprire il debito pubblico. Cioè la visione della politica della manutenzione del territorio, che è una tipica politica per la crescita. La miopia, direi, visto che hai usato la parola visione. Diciamo la miopia. Per cui sostanzialmente si può fare a meno di questi investimenti, perché è più urgente ripianare il debito. Vuol dire fare un errore di politica economica, prima ancora che di politica ambientale. Perché poi i costi dei danni sono superiori ai costi della prevenzione. E non generano quell'effetto volano positivo che invece, per esempio, genera mettere in sicurezza un territorio, far crescere delle società di giovani che fanno agricoltura, oppure la gestione dei boschi, la pulizia dei torrenti, che sono cose banali, ma che sono quelle che poi evitano centinaia di milioni di danni.